ciao a tutti e bentornati in testina news quest'oggi vedremo un incontro speciale tra l'artigianato italiano e un pizzico di magia parliamo del set borsa kaya analizzamolo nel dettaglio perché i particolari da analizzare sono tanti ne vediamo poi colori e poi torniamo per qualche spunto su come completarlo vediamo insieme il set kaya quando i dettagli fanno la differenza e allora vediamoli questi particolari proprio nel set borsa kaya completo già come vedete di questa base a forma di u ma anche di manico allora la base presenta proprio una sorta di fondo eccolo qui lungo circa 29 cm eccolo per una larghezza di circa 10 cm eccola qua mentre i laterali sono alti circa 22 cm e poi vanno vedete piano piano a stringersi e parlando di laterali ovviamente vediamo anche qui infatti questo dettaglio che indica che il manico è rivettato già applicato proprio grazie a questi pratici attacchi squadrati rifiniti ovviamente in argento ed ha una lunghezza totale di circa 35 cm il diametro invece dei fori presenti lungo tutta la base ha un diametro di circa 4 mm parliamo di un prodotto artigianale cucito a mano e soprattutto made in italy quindi poi vedete anche che la restante parte che vi occorre per completare da borsa è davvero minima quindi insomma sarà davvero alla portata di tutti realizzare qualcosa di unico e soprattutto con stile ma vediamo adesso le altre varianti di colore presenti nel set borsa kaya in un mondo in cui i dettagli contano diciamo il set borsa kaya dobbiamo dire che davvero rappresenta tutto ciò ed è una vera e propria dichiarazione di stile eleganza quindi funzionalità ma anche artigianalità il tutto poi è possibile completarlo con i tanti filati per borse presenti sul nostro catalogo tessiland pensate ad esempio ad un sublime lux oppure a un tai lurex darebbe davvero quella giusta brillantezza che un articolo come questo merita o perché no magari valorizzare con qualche punto in rilievo come il punto noccellino al punto onda grazie all'aiuto del tai skinny o ancora qualche altra idea se volete dare un tocco più naturale potete pensare ad esempio all'aiuta o ancora se volete dare un tocco di colore in più osate con il sublime sfumato insomma il set borsa kaya davvero vi dà un'ottima base per realizzare qualcosa di unico da arricchire e personalizzare esattamente a vostro piacimento ed è davvero perfetto per chi conosce il vero valore delle cose fatte con cura e con amore quindi se anche voi siete pronti a fare una passeggiata di stile con il set borsa kaya potrete sicuramente farlo io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi do appuntamento al prossimo news al prossimo articolo mi raccomando di seguirci su tutti i nostri social e di iscrivervi qualora non l'aveste già fatto anche sul nostro gruppo ufficiale tessiland noi ci vediamo al prossimo articolo ciao